carino c'era giochi tu è carino è carino non lo so voglio andare che ne siamo tutti speedy con Zaun everyone is everyone is speedy as fuck è meglio che era singe one until the time skip otherwise we'll be here at least a thousand years ago a great kingdom this kingdom had the most advanced technology in the world they reign supreme for quite some time year 600-700 the great kingdom domain has grown to span the entire globe in this time they also crafted three almighty weapons Eton, Poseidon, and I'm going to go over to get the new pronunciation here because we don't want to get the new size ooh 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 welcome to slowdown ooh 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 ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah. tu sai? ah ah ecco non è divertente quando ho pensato che io guarda va va non è divertente non è divertente è l'alого non lo cattolo non lo cattolo Stavo facciando la roba Oh shit Quasi ah Pusse foto d'errore Quasi ba Quasi ba Quasi ba Quasi ba Queste po' ancora Seguite Seguite me e morite Penta ki No sono triple ki Perché C'è l'ho vista con l'azione lì Mi hanno seguito tutti Tutti nella trappola della morte Guarda che va addosso Si mette lo shield e unta Non fa niente Non ha fatto niente Ok Ok Senza la mia mente Credo di riuscire a uccitare tutti Cosa Sì, stai fai 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 Sì Tu vè? Tu vè? Vieni Tu vè? Viu? Fai? Noi Qui? Per quanto sui? Umph... Il riso, il riso Se te roido Mi sta chiedendo perché non sono fanno... oh nooo, finito Noooooooo Ora il 3 Yarding Ora il 3 Yarding Vabbè Se le mi sono visto quanto il 3 Yardato come saio Voleva finire il game Eh Ah Ah Perchè o preso adesso? Perchè o preso adesso? Un evento importante che non è in modo da scuola Un po' di nuovo Qua' di nuovo? Perchè o preso adesso? Perchè o preso adesso? Qua' di nuovo?